Ma buonsalve e benvenuti in questo nuovo video! Prima di incominciare vi ricordo che ci sono ancora i saldi su Pumping, quindi magliette e felpe a tema nerd con sconti fino al 60%, maglietta a partire da 7,99€, quindi accorrete numerosi, per di più c'è ancora la maglietta a tema della Stovas, anche se sono le ultime unità, ve la siete mangiata e so contento perché comunque è una maglietta bellissima, quindi se riuscite a prenderla, sono veramente le ultimissime unità, vi lascio il link sotto in descrizione e anche il link al catalogo di Pumping in generale. In più, se aggiungete in fase d'acquisto un paio di calze nerd a vostra scelta con il codice FABIO10, le calze non le pagate. Detto questo, si parla finalmente del quarto episodio di The Last of Us, la nuova serie tv targata HBO tratta dall'omonimo videogioco. Come al solito si faranno spoiler come se piovesse nei riguardi dell'episodio corrente e si parlerà anche delle differenze con il gioco, senza però fare mai anticipazioni sul futuro della storia, quindi se non avete giocato The Last of Us potete stare tranquilli che non vi anticiperò assolutamente nulla. Partiamo subito perché le cose da dire sono effettivamente tante. Diciamo che dopo il terzo episodio, che aveva dato spazio a diverse controversie, alcune opinabili, altre decisamente meno, alcune condivisibili, altre decisamente meno, perché quando mi si parla magari della verticalità del terzo episodio e la si input in maniera negativa del tipo mi hanno raccontato la storia di Bill e Frank, a me di Bill e Frank non frega una cippalippa, ci posso anche stare. Quando invece si dice che l'episodio, il terzo episodio è brutto perché i due protagonisti sono omosessuali, e lì devi andare anche un pochettino a fare in culo, e ne ho lette di ogni settimana scorsa, ma non voglio di nuovo aprire il vaso di Pandora. Parliamo della quarta puntata, puntata che torna su dei binari decisamente più fedeli per quanto riguarda il gioco, binari anche più tranquilli. Succede tanto in questo episodio, ma è palesemente una puntata di transizione, non è un difetto, è giusto che ci servono ogni tanto delle puntate di transizione, nonostante questo però, questa puntata è comunque un tassello importantissimo per la nascita e la crescita, ormai non si parla qui neanche di nascita, si parla proprio di crescita, del rapporto tra Joel ed Ellie. E mi piacerebbe proprio iniziare questa pseudo-analisi parlando proprio di Ellie e appunto di Bella Ramsey. Diciamo che ormai qualsiasi tipo di critica nei confronti di questa attrice per me non valgono assolutamente nulla, Bella Ramsey è bravissima ed è Ellie al 100% in tutto quello che fa, piccole microespressioni, espressioni invece decisamente più vistose, gestualità. Per me è Ellie fatta e finita e la Ellie di Bella Ramsey è una Ellie estremamente innocente, è ancora una bambina, nonostante comunque l'attrice che la interpreta è una 19enne, Ellie invece ha 14 anni e nonostante sia una bambina nata in un mondo schifoso, Ellie non ha mai visto il mondo prima del Cordyceps, è nata in quel mondo terribile, ma nonostante questo è ancora innocente. La vediamo fare battuta ogni 3x2, adesso anche sto libro delle barzellette è tanto caro ai fan del gioco, ce l'ha anche appunto nel gioco quel libro delle barzellette, è quanto mi si è scaldato il cuore a sentirla dire battute veramente di merda, ride per qualsiasi cosa, si sorprende per qualsiasi cosa, Ellie non ha mai visto il mondo e non si è mai interfacciata con delle minacce umane o praticamente quasi mai. Sì, ha avuto delle esperienze con gli infetti, è stata morsa qualche settimana prima, quindi vorrei ben vedere, ma un conto è combattere contro degli infetti che sono sostanzialmente degli animali, sono, l'abbiamo visto anche nella precedente puntata quando Ellie interagisce con l'infetto sotto le macerie, gli infetti non hanno cattiveria, sono pur istinto animale, quindi sì comunque dei soggetti super pericolosi, ma un conto è combattere contro degli infetti che non hanno il cervello, un conto invece è combattere con degli umani, con i cacciatori che vengono introdotti appunto in questa puntata. Ellie in questo episodio appunto perde un pezzo della sua innocenza quando decide di utilizzare la pistola contro il cacciatore per proteggere Joel. Anche questa pistola che vediamo appunto all'inizio della puntata utilizzare da Ellie come se fosse un giocattolo, Ellie cita indirettamente la scena di Taxi Driver del tipo stai parlando con me, non c'è nessun altro, insomma la scena è palesemente quella, non penso che Ellie abbia mai visto il film con Robert De Niro, però il richiamo era palesemente quello lì, e poi invece la vediamo effettivamente utilizzare realmente quella pistola, e nel gioco non va proprio così. Mentre qui Ellie appunto ferisce Brian, uno dei cacciatori, poi è Joel ad ammazzarlo, nel gioco Ellie ammazza il cacciatore per proteggere Joel, gli spara un colpo in testa e tanti cari saluti, tante care cose. Credo di aver capito il perché abbiano deciso di non far uccidere il cacciatore da Ellie già nella quarta puntata, credo che vogliano ancora preservare l'innocenza di Ellie per robe che vedremo, in futuro mi mantengo abbastanza vago, ma anche per mostrare ancora di più il lato fragile di Joel. E arriviamo appunto a parlare di Joel, Pedro Pascal mi piace tantissimo, la sua interpretazione è impeccabile, c'è da dire però che il Joel di Pedro Pascal è molto diverso sotto tanti aspetti rispetto alla sua controparte videoludica, non è per forza di cose un male, hanno deciso di dare un'interpretazione più umana di questo personaggio, appunto veramente più fragile, e ci sta. Comunque ci fanno capire perfettamente che Joel non è proprio una carissima persona, scopriamo che ha avuto un passato da cacciatore, quindi è stato sia dalla parte dell'innocente che viene appunto braccato dai cacciatori, ma è stato anche lo stesso cacciatore che braccava innocenti, e scopriamo anche che ne ha uccisi di innocenti proprio per sopravvivere. Joel è sempre stato un personaggio controverso, e mi piace proprio per questo, non è un buono tipico, non è l'eroe tipico, è comunque una persona abbastanza grigia, ma nella serie è decisamente più umano e fragile. C'è un continuo tentativo, soprattutto in questa puntata ma anche nelle precedenti, di creare dei muri tra appunto Joel ed Ellie, proprio da parte di Joel, ma questo continuo tentativo sta sempre di più fallendo miseramente, Joel non riesce a rimanere indifferente di fronte all'innocenza di Ellie. E nel gioco sì, è così, ma non in maniera così spiccata, Joel ce ne vuole di tempo per sbloccarsi. In una scena dice a Ellie che è soltanto merce, non famiglia, ma subito dopo li vediamo ridere insieme, scene comunque bellissime, quando nella parte finale della puntata Ellie dice quella bruttissima battuta sulla diarrea a Joel, e Joel proprio muore dalle risate, io stavo morendo insieme, allora avevo proprio gli occhi a cuoricino, però allo stesso tempo mi rendo conto che il Joel del videogioco non si sarebbe comportato in quella maniera. Anche dal punto di vista fisico hanno reso il Joel di Pedro Pascal molto più acciaccato, con le ginocchia distrutte, non riesce a fare le scale dopo un poco muore, anche quando combatte con i cacciatori fa molta più fatica, è forse un Joel più pippa rispetto alla controparte violudica, ma ho capito perfettamente il perché hanno fatto questo, perché qui devono andare, devono correre come dei treni perché hanno soltanto nove puntate, i tempi del videogioco sono decisamente più dilatati, nella serie invece c'è tanto spazio per raccontare robe che nel videogioco non puoi minimamente raccontare, ma sotto altri invece punti di vista nella serie devi andare decisamente più veloce. Attenzione però è assolutamente voluto, anche la questione del fidarsi, del lasciarsi andare è stata gestita molto bene, nella parte iniziale dell'episodio nel bosco Joel si tiene stretto il fucile nel saccappello, addirittura non riesce a dormire per paura che delle persone possano arrivare nel cuore della notte e attaccarli nel sonno, quindi si alza in piedi, incomincia a guardarsi intorno con il fucile in mano, nella parte finale invece dell'episodio quando Joel si rilassa con Ellie, i due incominciano a ridere insieme, Joel si addormenta appunto e viene fregato, proprio abbassando la guardia viene fregato da Harry e Sam che sono questi due nuovi personaggi che sicuramente avranno più spazio nelle prossime puntate e sono anche molto curioso di vedere come li gestiranno questi due nuovi personaggi. Occhio perché qui già vi annuncio per voi fan dei giochi che hanno cambiato alcune cose sicuramente, basti pensare che l'interprete di Sam, il ragazzino che vediamo appunto nel finale dell'episodio, nel cliffhanger, l'attore è sordomuto, quindi sicuramente anche il personaggio sarà sordomuto, nel gioco Sam non è sordomuto, quindi vediamo come la gestiranno perché la questione della comunicazione è importante per niente una roba da sottovalutare, però non ho ancora visto nulla quindi non mi pronuncio, così come non riesco a pronunciarmi al 100% anche per quanto riguarda i cacciatori. Non mi pronuncio ancora perché i cacciatori sono una minaccia ricorrente all'interno del gioco di The Last of Us, però sono proprio dei cattivi, quasi privi di personalità, sono proprio delle persone che ti attaccano e tu ti devi difendere, delle persone che cercano di sopravvivere e tu quindi devi fare altrettanto e quindi li devi ammazzare. Qui invece stanno cercando di raccontarti un po' della loro storia, ma siccome sappiamo veramente pochissimo, magari ne parleremo meglio nella prossima puntata. La piccola chicca, prima di tutto il capo dei cacciatori, mi piace, che si chiama Caitlyn, mi piace veramente tanto, l'attrice è molto brava, è proprio una Karen che vorrei prendere a schiaffi dalla mattina alla sera, infatti non vedo l'ora che esploda malissimo, spero almeno che esploda malissimo, personaggio totalmente inedito rispetto al gioco e per di più vorrei dirvi che il suo sottoposto, il tizio con il barbone che vediamo insieme a Caitlyn, è l'attore che interpreta Tommy nel videogioco, è proprio l'attore che presta la voce a Tommy, il fratello di Joel, nel videogioco. Piccola chicca che mi ha fatto veramente sorridere, si parla anche di Tommy in questa puntata, Joel parla di suo fratello, viene esplicitato che appunto ha avuto un passato da militare, lo si intuiva già dalla targa che vedevamo nella prima puntata di The Last of Us che Tommy fosse appunto un reduce della guerra del Golfo, non che questo sia particolarmente importante dal punto di vista della storia, però già ti fa capire che i due hanno un passato militare e quindi quando vediamo Joel one-shotare a distanza i cacciatori, bene o male capiamo che ha esperienza con le armi, è anche interessante il fatto che ti dicano che Joel praticamente abbia un orecchio completamente andato proprio per i continui spari, è interessante. Ultime cose sparse che mi andava a dire proprio nei riguardi della puntata, bene o male i macroelementi li abbiamo già esplorati anche perché è una puntata molto semplice di transizione, l'abbiamo già detto quindi non è che si poteva fare un'analisi super approfondita, ho cercato di fare il meglio che potevo, ma appunto ho goduto come non mai quando hanno mostrato la scena del giornaletto zozzo di Bill e Frank, lì la scena è identica a quella del gioco e ve l'avevo detto nello scorso video che l'avrebbero, avrebbero trovato il modo di introdurla in qualche maniera, bella, 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 un po' meno per quanto mi riguarda la scena del trappolozzo dei cacciatori. Secondo me nel videogioco è molto più cinematografico, diciamo con la trappola nel gioco, diciamo che per bloccare la macchina di Joel e Delli i cacciatori lanciano proprio letteralmente, utilizzando comunque una discesa, un tipo un furgone, una sorta di autobus per appunto tamponare la macchina di Joel e Delli, qui li lanciano invece addosso un bidone, ok il risultato è lo stesso, però anche a livello di montaggio era molto più interessante, a livello anche musicale veniva utilizzata in quella scena la canzone Alone and Forsaken, che sentiamo comunque in questa puntata, ma in una sequenza diversa, proprio ad inizio episodio, va bene, così mi piace di più l'attacco dei cacciatori nel videogioco, ma nulla, assolutamente nulla di grave. Ultima cosa, fate attenzione a quel cavolo di pavimento che si sta sempre di più sgretolando, perché c'è qualcosa sotto, proprio nel locale controllato, nell'edificio controllato dai cacciatori. Si tratta, e qui mi voglio pronunciare proprio perché è già un elemento che è stato mostrato nei trailer, quindi non lo considero uno spoiler, si tratta molto probabilmente di un bloater, che è un'altra versione degli infetti, è un altro tipo di infetto. Diciamo che abbiamo visto già i runner, abbiamo già visto i clicker, mancava appunto il bloater, che è questa sorta di mostracchione gigante, che nel videogioco ti lancia addosso delle spore, e infatti nella seconda puntata si cita questo appunto infetto che lancia delle spore addosso appunto ai suoi nemici. Non penso che il bloater lancerà delle spore, perché non ci sono le spore nell'universo seriale di The Last of Us, probabilmente cambieranno qualcosina, anche il fatto che sia sottoterra come appunto un fungo, che sia appunto qualcosa che cresce sottoterra, boh, sulla carta è veramente tanto interessante, ma voglio vedere come lo gestiranno. Probabilmente lo vedremo già nel prossimo episodio, però, boh, chi vivrà vedrà. La prossima appunto puntata si chiama Endure and Survive, Survive, scusate come al solito per il mio inglese, pessimo, e vuol dire soltanto una cosa per chi ha già giocato il gioco, ansia. Ma detto questo, adesso voglio sapere la vostra. Fatemi sapere qua sotto con un commento se questa quarta puntata di The Last of Us vi è piaciuta, se non vi è piaciuta. Sono veramente curioso, e noi ci vediamo alla prossima, in generale ci vediamo quando ci vediamo. Ciao a tutti ragazzi!